L'antica civiltà egizia, dopo secoli di studio, lo smette di affascinare la comunità scientifica e il mondo intero con nuove scoperte. Se fino ad ora si era pensato che l'imbalzamazione fosse da attribuire solo al suo periodo di maggior splendore, nuovi studi lanciano l'ipotesi che fosse in realtà un'eredità della cultura tribale tramandata per millenni. Secondo la dottoressa Jana Jones, dell'australiana Macquarie University, l'uso di sostanze mummificanti sarebbe stato comune già tra il 4500 e il 3350 a.C. e non solo a partire dal 2200, ossia durante il periodo detto del Regno Antico. Questa scoperta, se confermata, rimetterebbe in discussione quanto si credeva di sapere sulla tecnica di imbalsamazione e mummificazione egizia.